carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi il peccato originale l'origine da ogni male che è giunto diciamo così alla terza parte la volta scorsa abbiamo completato l'analisi certamente sommaria non esaustiva però meno un po' degli scritti di Maria Valtorta su ciò che concerne il peccato originale quindi è semplicemente una rivelazione che in maniera perfettamente compatibile con il dato biblico rivelato quindi così come tramandato dalla tradizione della chiesa presenta una possibile ipotesi ricostruzione di quello che è stato il peccato originale e delle sue conseguenze una ricostruzione che pur senza svelare completamente tutto il mistero perché rimangono dei misteri per esempio come sarebbe stato la riproduzione del genere umano se non si fosse passati alla riproduzione sessuata si dice qualcosa ma rimane velato quindi non si capisce come esattamente come del resto sono già più volte evidenziati i padri della chiesa questo altro misterioso modo di riproduzione della razza umana che era nella mente di dio tuttavia è una certa riproduzione ora come tante volte vi ho detto da quando è iniziato questo ciclo di catechesi ma anche ogni volta che io parlavo di queste cose sistematicamente mi arrivava mail commenti padre c'è la genesi biblica di don guido bortoluzzi legga la genesi biblica di don guido bortoluzzi legga la genesi biblica perché questo completa gli scritti di Maria Valtorta ed è un'ipotesi perfettamente compatibile con le attuali posizioni scientifiche con le conquiste della scienza quindi chiude il cerchio eccetera eccetera a un certo punto mi sono deciso andiamo a vedere queste rivelazioni anche se io mi sentivo già come dire come dire abbastanza pagato se si può usare questo termine nella ricostruzione risultante degli scritti di Maria Valtorta sempre premesso amici e amiche che stiamo semplicemente facendo un'ipotesi teologica che ha una sua certa credo che sia interessante ma è comunque una focalizzazione e un approfondimento di verità di fede che sono già sufficientemente definite dal magistero della chiesa cioè come in tutte le cose quello che già c'è nel magistero della chiesa basta e avanza tuttavia se il nostro signore ha voluto alzare questo velo come già spiegato è che tante situazioni tante cose che noi adesso viviamo trovano una logica se le cose sono andate come per esempio Gesù ha rivelato a Maria Valtorta abbiamo visto che anche la problematica relativa ai fossili di ominidi chiamiamoli così ritrovati a varie in varie epoche storiche insomma da archeologi e compagnia a fine hanno una spiegazione nella ibridazione del genere umano avvenuta attraverso la depravazione di caino che però non ha comportato una depravazione dell'intero genere umano e quindi una ibridazione dell'interno genere ma di una parte e prima che questo fenomeno diventasse universale che coinvolgesse anche i pochi discendenti della linea diciamo così pulita di Adamo quindi quella dipendente da set c'è stato il diritto universale in modo tale che Noè con i suoi tre figli Sam, Cam e Japheth hanno contribuito alla salvezza del genere umano e quindi a perpetuare una razza umana che pur inficiata dal peccato originale perché di questo non si parla però è rimasta fondamentalmente umana 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 quindi discendente dal primo uomo così come creato da Dio non come dire ibridata chiaro quindi questo ripasso è fondamentale perché leggendo poi la genesi biblica mi ha preso un colpo mi ha preso perché mi sono trovato dinanzi tutta una serie di informazioni che mi hanno lo dico proprio franchissimamente lasciato turbato sconvolto perché il discorso non è così tranquillo se è sereno e lineare le cose che vengono fuori da quest'opera io ho un po di imbarazzo e difficoltà a parlarne perché questo è un confratello e pare che fosse anche un santo sacerdote insomma cioè quindi per questo che sono veramente proprio in estrema difficoltà nel senso che vorrei dire completamente altro da quello che dico però personalmente ho avuto questo riscontro a parte il turbamento non indifferente ma la percezione che dico ma questo cioè se questo fosse vero qui non è un andare a puntualizzare il dato rivelato è qui a dire un'altra cosa rispetto a quello che sta scritto nel libro della genesi che non si può come dire risolvere semplicemente con una lettura simbolica quindi io ebbi subito questa impressione quindi lessi le sue opere in una versione riassuntiva che circola perché il testo è assolutamente gigantesco e dico guarda io sospendo il giudizio poi se la chiesa un giorno io sinceramente rimango oltremodo perplesso ma cosa succede? mi sono arrivate qui devo ringraziare devo fare un pochino di ringraziamenti tramite la signora Simona Serafini dovrebbe chiamarsi non vorrei adesso fare credo credo di sì che è una amica insomma che frequenta iscritta al canale telegram che quando ha visto questo ciclo di catechesi ha pensato sicuramente conosciamo molto bene gli iscritti valvaltortiani di inviarmi anche un pochino di materiale integrativo che potesse aiutarmi a ampliare gli orizzonti tra cui ecco il testo di uno studioso che si chiama Guido Landolina che è una persona che conosce benissimo gli iscritti di Maria Valtorta e che ha effettuato degli studi proprio di comparazione tra la genesi bilvica di Don Guido Bortoruzzi e gli iscritti di Maria Valtorta dimostrando che che ne dicano insomma una certa vulgata che presenta le liberazioni di Don Guido Bortoruzzi come in continuità e come un completamento di quelle di Maria Valtorta dimostrandone la totale non compatibilità cioè si è liberi su questa materia quindi uno può fare quello che vuole può scegliere da qualunque parte stare quello che diciamo la coscienza e il cuore lo convince di più fermo restando eventuali futuri giudizi della Chiesa che al momento non ci sono stati quindi questa è materia libera su cui si può riflettere senza fare trincee o battaglie ideologiche ripeto quello che deve essere ritenuto è ciò che la Chiesa insegna qui stiamo nell'ambito delle ipotesi però bisogna anche chiarire alcuni aspetti ecco io quindi seguirò un testo che poi eventualmente lo metterò sul canale Telegram per chi volesse prenderlo che si chiama Genesi Biblica e Peccato Originale di Guido Landolina si trova online sul sito www.ilcatecumeno.net quest'uomo ha scritto un sacco di roba ed è veramente anche lui come già all'inizio ho dovuto ringraziare più volte il Barontini per tutto quel lavoro monumentale fatto con i padri della Chiesa ho letto questo testo, tutto questo testo proprio per cercare di avere un pochino un'attrezzatura perché io ricordavo qualcosa della Genesi Biblica di Don Portoluzzi ma dovendo fare una catechesi che rimane uno deve essere un pochino preciso quindi non voglio ecco non avrei voluto insomma dire delle imprecisioni che poi ti vanno insomma a guastare tutto quanto il lavoro per cui ho trovato molto chiaro molto sintetizzato anche in questo testo ciò che c'è da dire per cui lo seguirò a partire dall'introduzione e poi dal primo capitolo dove l'autore presenta in forma anche un pochino drammatizzata e ironica lo status questionis e le problematiche che pongono gli scritti del Don Portoluzzi Allora, dette tutte quante queste cose passo alla citazione comincio a leggere il testo a partire dall'introduzione dell'autore salto evidentemente alcuni punti a un certo punto dice così scrive così come per le sagre scritture ha parlato prima del peccato originale così come appare nelle sagre scritture che ad esse bisogna attenersi senza stare a fare troppe libere interpretazioni no? come per le sagre scritture comincio la citazione bisogna stare attrettanto attenti alle libere interpretazioni delle splendide rivelazioni private dei testi della mistica Maria Valtorta da parte di chi non li abbia approfonditi più che a sufficienza per non incorrere anche qui in altri errori o fraintendimenti come quelli di un'opera Genesi biblica di Don Guido Portoluzzi sulla quale fra poco ragioneremo dove in quella che si autodefinisce una visione data da Dio si parla di un Adamo che sarebbe stato personalmente responsabile di una ibridazione della razza umana tutta quindi non solo i discendenti di Caino a causa di un suo originario rapporto con una scimmia rapporto raccontato peraltro con particolari sessuali scabrosi secondo quest'opera da tale rapporto sarebbe nato Caino un ibrido uomo scimmia che della scimmia da parte di madre che della scimmia da parte di madre avrebbe avuto l'aspetto fisico mentre dell'uomo per parte del padre Adamo avrebbe acquisito il pensiero l'intelligenza e la parola a seguito di ulteriori rapporti sessuali bestiali tra l'uomo scimmia Caino ed altre primitive scimmie antropoidi ormai scomparse ne sarebbe derivata sempre secondo l'opera suddetta una seconda razza ibrida che potremmo definire come una razza di ominidi gli uomini originari geneticamente puri cioè i discendenti di Adamo e della donna che nella Bibbia è chiamata Eva si sarebbero ad un certo punto della storia incrociati con femmine di ominide dando così origine ad ulteriori ibridi fisicamente ed intellettivamente più evoluti e somiglianti all'uomo esseri che nel corso di decine di migliaia di anni si sarebbero gradatamente trasformati negli uomini attuali uomini che quindi non apparterebbero più alla razza pura di Adamo in quanto nell'incrocio fra razze i caratteri genetici selvatici più forti degli antichi ominidi avrebbero preso il sopravvento su quelli originariamente umani questa è proprio una sintesi proprio ridotta essenziale in buona sostanza ed in sintesi noi uomini attuali compresi voi che leggete non saremmo più secondo Don Guido Bortoluzzi i discendenti della razza del geneticamente puro Noè ma di quella ibrida dell'uomo scimmia Caino ciò perché sempre secondo la genesi di Don Guido Bortoluzzi la moglie di Noè sarebbe stata anche lei una ibrida e conseguentemente lo sarebbero stati anche i suoi tre figli Cam Sam e Iafet dai quali secondo la Bibbia a nostra volta noi tutti uomini attuali discendiamo l'opera di qui sopra tradotta e pubblicata in varie lingue pare che cominci ad incontrare un discreto successo di consensi non solo fra i credenti ma quel che è peggio anche fra gli stessi cristiani dei quali non pochi sono ormai dimentichi delle proprie origini e delle verità trasmesseci dalla Bibbia e dalle antiche tradizioni dei padri della Chiesa probabilmente questo autore conosceva già qualcosa di quello che abbiamo detto nella prima parte di questo ciclo di Catechesi sembra in effetti in questo caso più che mai vero il detto di non ricordo quale autore per cui quando gli uomini non credono più in Dio finiscono per credere a tutto a questo punto salto e passo direttamente al capitolo che si chiama l'antefatto dove ripeto in forma nella forma di una telefonata che non so se c'è stata oppure no notturna ecco tra l'autore e un interlocutore spiega un po' ecco in questa forma un pochino soft i punti salienti di Genesi Bibliche quindi nel libro digitale questa sarà la pagina 25 per chi lo scaricherà e poi vorrà andarlo a rileggere con calma tanto io cito una telefonata notturna hanno avuto il coraggio di mettere su internet il libro di un sacerdote che dice che Eva era una scimmia e che Caino figlio di Adamo aveva l'aspetto fisico di una scimmia ma pensava e parlava come un uomo e che la nostra Eva la nostra sciocura della saga scrittura era invece una povera bambina innocente questo è già un primo quadro abbastanza chiaro perché è così in quegli scritti drin drin pronto chi parla sono io a quest'ora chi potrebbe essere a quest'ora non scherzare volevo dirti non sai che su internet gira un'opera sulla Genesi Biblica che non ti dico pensa che si autoqualifica come frutto di rivelazione divina e vi si afferma che Adamo non è stato creato già adulto e dal fango da Dio come dice la Bibbia ma che invece sarebbe nato secondo modalità naturali a seguito di uno specifico intervento di Dio che dentro all'utero di una scimmia avrebbe appositamente creato da nulla un gamete della futura donna umana e un gamete del futuro uomo e dall'unione dei due gameti si sarebbe formato il primo embrione umano quello di Adamo che in seguito sarebbe stato partorito dalla scimmia questo è il primo punto fondamentale allora Don Guido Bortoluzzi parla di questo scimmione lo chiama Ancestre quindi la creazione dell'uomo che cosa fa Dio? Prende quello che sarebbe stato poi per noi un gamete maschile un gamete femminile li mette dentro l'utero della scimmiona e nasce quello che poi sarebbe stato Adamo che viene partorito dalla scimmiona e viene poi allattato e allevato dalla scimmiona io amici e amiche miei care già io quando lessi queste cose già dopo aver letto questo volevo chiudere d'accordo perché a me personalmente poi se fosse così io chiedo perdono a priori a Dio a Don Guido a tutti quanti però capite su queste cose noi dobbiamo anche un attimo ascoltare le disonanze del cuore e della coscienza insomma io personalmente a dinanzi a questo genere chiudo subito il libro perché mi sembra assurda una cosa del genere che bisogna già nostro signore di prendere una scimmiona e di metterci dentro i futuri gameti maschili e femminili per generare in questo modo dal grembo di una scimmiona il primo uomo che poi esce fuori perfetto però viene allattato al grembo al grembo della scimmiona boh va beh attenzione che questo sacerdote parla di liberazioni divine soprannaturali e allora i figlioni miei cari se non se le ha inventate con lui cioè sono due le cose che sono soprannaturali sono due le fonti soprannaturali o è l'una o è l'altra quindi lascio poi a ciascuno di farsi un'idea propria proseguo la lettura capisco una specie di fecondazione artificiale antelitteram qui ironizza l'interlocutazione fecondazione artificiale antelitteram perché sapete come è la fecondazione artificiale uno prende due gameti li feconda e poi li impianta dentro l'utero è una cosa insomma un pochino simile no? c'è una specie di fecondazione artificiale antelitteram in una sorta di utero in affitto ironizza l'interlocutore telefonico però d'accordo ma chi vuole che ci faccia siamo in un paese libero si dice anche gli evoluzionisti sbandierano a destra a sinistra che gli scendiamo dalle scimmie è un'altra delle tante teorie evoluzioniste forse un po' più originale però niente di veramente nuovo è esposta mi vuoi forse tu dire che lasceresti correre che non contesteresti prendendo una posizione contestare e cosa vuoi che contesti e a chi vuoi che interessi quel che io contesto ci mancherebbe di dover contestare tutte le opinioni che non ci garbano meglio ignorare se no va a finire che gli facciamo anche pubblicità e poi non ho tempo sono concentrato sul libro che sto scrivendo e ne ho ancora per dei mesi è già mezzo inverno che studio e scrivo mi alzo presto anche se a quell'ora fa un freddo della miseria meno male che vicino alla scrivania il caminetto anzi la prossima volta non mi telefonare più a quest'ora tarda mandami un messaggino che almeno non lo sento ognuno è poi libero di pensare scrivere quello che vuole io sottoscrivo queste posizioni rispettose della libertà del prossimo almeno fino ad un certo punto e finché non ci toccano personalmente dovremmo altrimenti fare la guerra a tutti e tu te ne vorresti rimanere l'inerte a caldo del tuo caminetto prima hai detto bene ognuno è libero di pensare scrivere quello che vuole almeno fino ad un certo punto ebbene in quest'opera si adduce a conferma di quella teoria una rivelazione fatta da Gesù a Maria Valtorta la nostra Valtorta capisci? no non capisco cosa c'entra la Valtorta con cose di questo genere non c'entra infatti ma non potendola farcela entrare dalla porta ce la farà entrare dalla finestra poi ti dico ma dimmi un po' l'affare dei due gameti dell'embrione umano e cosa sarebbe successo al futuro Adamo? sarebbe stato dato alla luce da quella scimmia con un parto naturale come ti ho già detto Adamo partorito da una scimmia però con due gameti umani la scimmia che l'autore di quella genesi biblica dice essere la vera Eva cioè che quando nella Sacra Scrittura si parla di Eva è la scimmiona non è quella tratta dall'agosto alla di Adamo la scimmia era senza pelo di pelle liscia e biancastra una scimmia di una razza speciale preumana una di tipo intermedio la chiama ancestre fra la scimmia propriamente detta e l'uomo questa scimmia simildonna pare fosse stata infatti frutto rispetto alle altre scimmie sue antenate di una qualche variazione genetica quella che oggi i neodarvinisti visto che non riescono a trovare alcuna prova degli anelli mancanti della loro catena evolutiva chiamano ora un salto genetico per poter arrivare a forza di salti all'essere umano o forse sarebbe stata creata direttamente da Dio per essere una testa di ponte anche se ora non ricordo bene questo dettaglio questa scimmia speciale era ambivalente multiuso nel senso che poteva avere figli sia da esseri umani che da altre scimmie questo è era anche più intelligente dallo sguardo quasi umano capelli lunghi fatta fisicamente quasi come una donna ma dall'aspetto e dall'andamento del tutto scimmiesco sua madre un'altra scimmia ma meno voluta di lei l'avrebbe poi assistita come levatrice per la nascita di Eva la nostra Eva perché dopo Adamo sempre dalla scimmiona è nata anche Eva una scimmia levatrice intendi dire come una delle nostre levatrici le nostre ostetriche esatto solo che ho letto nel libro che la scimmia che era madre della scimmia Eva quindi la scimmiona ancestre si sarebbe mangiata la placenta della figlia alla quale forse perché la figlia era di una specie preumana più evoluta rispetto alla madre quella placenta faceva schifo ci sono le citazioni proprio del testo sotto quindi queste sono cose risultanti dal testo beh non aveva tutti i torti dopo però che Adamo è nato come ha fatto il lattante a sopravvivere mica come nel libro di Tarzan delle scimmie libro? quale libro? il famoso libro del bambino buon servaggio levato nella giungla dalle scimmie un libro dei nostri tempi anzi dei tuoi te lo ricordi è del 1914 questo qui e qui c'è una foto di Tarzan del libro di Tarzan no? senti smettila di scherzare a quest'ora appunto a quest'ora mi sembra che sia tu a scherzare con questa storia inverosimile pazzesca ma allora che ne fu della dama appena nato? era un bel bimbetto nato dalla scimmia ma umano in tutto e per tutto davvero perfetto venne allattato dalla donna scimmia quella che ti ho detto a pelle bianca e senza pelo la quale se ne prese cura insieme a sua madre una scimmia pelosa a pelle nera più anziana e rugosa e poi e poi il piccolo Adamo crebbe fisicamente perfetto ma non capisco prima avevi detto che la scimmia di pelle bianca era la vera Eva che però aveva partorito dunque Eva la scimmia a pelle bianca simile a una donna sarebbe stata anche la madre di Adamo? scusa ma la Bibbia dice che Adamo si sposò Eva la sua compagna creata appositamente da Dio grazie ad un agosto che Dio aveva prelevato da una dama adulto la Bibbia non dice affatto che Eva fosse stata una scimmia come dice la tua Genesi né tanto meno che essa fosse stata partorita da un'altra scimmia e qui cominciano ad emergere le prime cioè come si fa a dire una cosa di questo genere dinanzi al racconto della Genesi come lo si fa a incastonare qui dentro scusa forse a quest'ora tu non riesci davvero a capire bene ma ti avevo detto che l'autore del libro dice che l'Eva di cui parla la Bibbia non era quella che crediamo noi ma era in realtà proprio la scimmia bianca spiegando che il nome Eva di cui parla la Bibbia non sarebbe un nome proprio di persona come erroneamente lo intenderebbero tutto ma dall'antica etimologia della parola era un nome atto ad indicare il suo ruolo di madre di tutti i viventi quindi madre di Adamo tanto per cominciare madre di tutti i viventi cioè di tutti gli uomini senti non ci capisco più niente quella era una scimmia e noi siamo uomini se Adamo era geneticamente puro in quanto il suo embrione era formato da un gamete femminile della futura donna e da un gamete maschile del futuro uomo creati dal nulla appositamente da Dio ma con chi Adamo ha fatto sesso per generare gli uomini lo ha fatto con la propria figlia quando lui aveva più o meno 16 anni la propria figlia un incesto no ti spiego meglio Dio secondo l'autore dell'opera che dice di aver avuto visione e rivelazioni che ci spiegano meglio la genesi e il peccato originale perché gli uomini oggi sarebbero maturi per accogliere queste novità creò la prima donna umana quella che per noi sarebbe Eva spero che stiate seguendo abbiamo la scimmiona Dio crea i gameti due gameti li fa unire dentro il grembo della scimmiona e nasce Adamo che viene allattato dalla scimmiona dopo sempre nel grembo della scimmiona plasma Eva dice ma come fece attenzione dopo aver creato Adamo grazie a due gameti nell'utero della scimmia come ti ho spiegato prima creò alcuni anni dopo un altro ovulo femminile della specie umana lo mise nuovamente nell'utero della scimmia come aveva fatto nel precedente caso di Adamo e poi permise che a metterci l'altro gamete tanto per capirci ci pensasse invece il giovane Adamo ma nel sonno Adamo nel sonno mi consonambulo senti tu hai voglia di scherzare ma io no ti sto raccontando la trama così come l'ho letta e capita anche se dire il vero è una trama un po' confusa non è ordinata anzi c'è molto disordine guarda però che c'è tanta gente che ci crede a cominciare dagli evoluzionisti e persino qualche val tortiano che io conosco ma che non so proprio come faccia a crederci essendo un val tortiano vengono organizzati anche convegni e l'opera come ti ho detto è stampata per ora in sette lingue basta andare su internet e cliccare sul loro sito se vuoi compri anche il libro editoriale altrimenti te lo scarichi direttamente te lo leggi anche gratis in formato pdf come ho fatto a suo tempo io si vede che stanno facendo apostolato senti a proposito di frequentazioni nel sonno il sonno me l'hai fatto passare anche a me raccontami un po' il resto della trama perché ormai sono curioso di sapere come va a finire l'hai chiamata opera sei sicura opera di chi? opera di un sacerdote ah questa poi sapevo dell'apostasia e perdita della fede non solo fare cristiane ma anche in certi personaggi della chiesa ma non fino al punto di scrivere cose di questo genere qui insomma ci va un pochino pesante sul giudizio ma io ripeto ho una venerazione strutturale verso i confraterni nel sacerdotio quindi leggo quello che ha scritto insomma no ecco guarda che non è lui a inventarsele come potrebbe sembrare infatti lui dice che aveva delle visioni che gli mandava Dio così almeno ha scritto nel suo libro e anzi lui dice il sacerdote dice che altri personaggi in odore di santità gli avrebbero predetto di persona nei primi decenni del secolo scorso che egli avrebbe scritto in seguito una grande opera in che senso grande? e siamo sicuri che il riferimento ad altri personaggi non sia un millantato credito? si rischi il reato di diffamazione alla galera? l'autore pare fosse una persona di tutto rispetto e comunque non rischia più niente perché è morto da più di vent'anni e quanto allo smentirlo loro non potrebbero più sono tutti morti anche loro da un bel pezzo quindi questi personaggi ecclesialmente rilevanti in odore di santità addirittura che gli avrebbero predetto questi suoi scritti comunque per rispondere alla tua domanda di prima ti stavo dicendo che per creare la prima donna umana Dio aveva messo nell'utero della scimmia sempre quella non pelosa di pelle bianca un ovulo della specie umana mentre il gamete maschino necessario a formare l'embrione di questa prima futura donna ce l'aveva messo Adamo nel sonno sempre e quindi questa costola di Adamo non era la costola di Adamo no? quindi era altro ne è nata una bellissima bambina quella che nella genesi della Bibbia è chiamata appunto Eva cioè la donna che la Bibbia dice di essere stata tratta dalla costola di Adamo mentre nell'opera di cui ti parlo Eva è invece la scimmia e quanto alla costola di Adamo beh quella secondo l'autore dell'opera sarebbe invece un eufemismo per indicare ben altro organo del corpo maschile ma leggerai tu stesso non so se se ci siamo capiti quindi non la costola comunque questa bambina crescendo sarebbe divenuta quella che la Bibbia dice essere la compagna e poi moglie di Adamo chiamata Eva la bambina la bambina innocente la bambina santissima senza peccato che non è proprio purissima Eva però te lo ribadisco era la scimmia Eva non di nome ma di fatto in quanto madre di tutti i viventi per via di quei gameti sviluppati in embrione del suo utero non so se riesce a seguirmi spero che anche voi riusciate a seguire quindi chi sta seguendo in diretto un po' ascolterà questa catechesi devo dire che fatico al quanto ma poi farò mente locale e disegnerò anche l'albero genealogica è presente i miei pastori tedeschi compilerò un pedigree come il loro e sarà tutto più facile vabbè comunque poi la bambina con il tempo cresce e diventi in età da marito oh finalmente ho capito ecco che da Damo le nascono i figli Caino e Abele no no non hai capito niente fai un passo indietro Caino non sarebbe figlio della nostra Eva cioè della bambina divenuta donna umana ma sarebbe figlio naturale di Adamo e della scimmia ed è qui che nasce il problema del peccato originale ci stiamo arrivando non lo crederesti mai non capisco che storia complicata sembra un horror a sfondo sessuale Dio secondo le visioni di quel sacerdote ma sei sicura che venissero veramente da Dio? se lo chiedeva spesso anche il sacerdote che una volta scritto nel libro ha fatto perfino un esorcismo tanto gli parevano visioni diaboliche ma poi sentiva come una ispirazione che lo convinceva che erano da Dio ma tu sai che a proposito del peccato originale la Bibbia dice che Dio aveva proibito ad Adamo di cogliere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male perché i suoi frutti gli avrebbero portato alla morte no? è vero l'albero era un normalissimo albero comune con dei frutti comuni ma era stato caricato da Dio di un significato allegorico e simbolico di prova per saggiare l'effettiva volontà di obbedienza dei primi due obbedienza che è prova di amore verso Dio piccola prova rispetto al tutto che Dio aveva loro donato la Bibbia narra anche che il serpente disse ad Eva che invece non sarebbero morti ma che anche il Signore ma che anzi il Signore non voleva che cogliessero i frutti perché era geloso e sapeva che se li avessero mangiati si sarebbero aperti i loro occhi e sarebbero diventati come Dio in quanto conoscitore del bene e del male sì Dio non voleva che si avvicinassero al vero del bene e del male perché sapeva in anticipo che lì vicino ci sarebbe stato satana in agguato ma Dio lo aveva proibito anche perché il voler cogliere per di più per l'ambizione di divenire simile a Dio i frutti dell'albero della conoscenza del bene e soprattutto del male sarebbe stato pericoloso per l'uomo poiché egli creatura allora intelligentissima ma pur sempre limitata in quanto uomo non avrebbe saputo come gestire queste conoscenze dico bene è certo che dici bene anche perché l'uomo del paradiso terrestre veniva istruito sul bene direttamente da Dio mentre il male lo avrebbe preso solo da Satana unico incubatore del male queste sono tutte tante cose che sappiamo queste sono le specificazioni che risultano dagli scritti di Maria Valtorta dal che si vede come l'autore li conosce molto bene peraltro di subitire la volontà espressa da Dio sarebbe stata una grave mancanza d'amore anzi un tentativo di usurpazione nei confronti del ruolo di Dio l'uomo avrebbe perciò perso la grazia santificante con la conseguenza perdita dei doni originali come la sua sapienza l'integrità fisica e spirituale e per sopravvivere sarebbe infatti infine stato costretto ad un duro lavoro sottoposto al dolore e infine avrebbe perso l'immortalità dico sempre bene dici bene anche quel sacerdote afferma che l'albero era allegorico come dici tu ma precisa al contrario che esso non stava significare il bene e il male come dice la Bibbia ma doveva essere interpretato come l'albero genealogico della razza scimmiesca il cui frutto non so se mi spiego Adamo non doveva cogliere perché era un albero genealogico bestiale cogliere quel frutto della razza scimmiesca avrebbe infatti significato dare il via alla procreazione di bestie scimmiesche ibridi mezzo uomini e mezzo scimmie come ad esempio gli ominidi dell'antichità insomma degli ibridi che non avrebbero avuto più niente della dignità dell'uomo Adamo la creatura perfetta creata all'inizio da Dio con l'anima spirituale immortale per divenire un giorno figlia di Dio in cielo Adamo non seppe però attendere che la bambina della specie umana pura ma nata da due gameti umani messi nella scimmia diventasse donna per poter procreare con lei quando Dio lo avesse voluto e nel modo che Dio avesse voluto ma per superbia di volere egli stesso da solo creatore come Dio e forse anche per impazienza e l'impulso sessuale volle ancora sedicenne generare per il proprio conto con la scimmia e disobbedì cogliendo il frutto dell'albero genealogico selvatico aspettò astutamente che la scimmia di pelle bianca si racconta sempre nel libro entrasse nel periodo del suo calore quindi si sdraiò sul giaciglio della sua camera da letto quindi Adamo ha avuto un rapporto con sta scimmiosa guarda che non è immaginazione del sacerdote ma è proprio una visione che Dio avrebbe mostrato il seguito della visione te lo lascio immaginare e non te lo racconto è imbarazzante anche se i nostri nipotini elementari purtroppo insegnano già come succede in quel caso la volontà di Adamo contraria alla volontà di Dio e questo è un punto cruciale rileggo in quel caso di volontà di Adamo contraria alla volontà di Dio e questo è un punto cruciale Dio si guardò bene dal creare un ovulo femminile umano nell'utero della scimmia l'uomo era stato creato libero e Dio rispettò al suo libero arbitro lasciandolo sbagliare fatto sta che da lì ovulo femminile che questa volta era di scimmia più gamete maschile umano di Adamo venne partorito Caino il quale avendo acquisito nel proprio embrione i cromosomi dell'ovulo scimmiesco e quelli del gamete umano di Adamo ebbe caratteri ibridi cioè promiscui dalla scimmia ereditò del tutto l'aspetto esteriore e dall'uomo ebbe il pensiero l'intelligenza soprattutto anche la parola insomma un uomo mostro dunque la madre naturale di Caino non fu Eva come dice la Bibbia ma fu la scimmia sì però una sua madre biologica come quando il padre ci mette il seme e la madre scimmia ci mette il resto il peccato originale sarebbe dunque consistito non nella ambizione di voler essere come Dio come dice la Bibbia ma nel rapporto sessuale generativo con una specie animale diversa da quella umana una specie selvatica come già ho detto e questa sarebbe stata sempre secondo la genesi di questo Don Bortoluzzi la vera motivazione della cacciata di Adamo dal paradiso terrestre ormai è bella che è finita la storia è quasi finita la storia ed Eva intendo dire non Eva la scimmia ma la nostra Eva la bambina poi divenuta donna umana o una volta giunta in età da marito bella come era Adamo avrebbe avuto con lei per la prima volta un normale rapporto umano e da quello ma solo diversi anni dopo la nascita del primo genito di Adamo cioè l'uomo scimmia Caino diversi anni sarebbe nato Abele vero figlio di pura razza umana perché a differenza di Caino era nato dal rapporto coniugale corretto fra un vero uomo ed una vera donna anche qui il rapporto sessuale tra uomo e donna che è doloroso da cui deriva la perdita del sangue la perdita della virginità tranquillo fa niente tra l'altro con una che sarebbe la figlia di vabbè a proposito di quei due la Genesi lascia intendere che Caino e Dabele fossero uomini che vivevano di agricoltura di pastorizia e facevano sacrifici al Signore come poteva la scimmia Caino occuparsi di agricoltura offrire sacrifici al Signore lui che era uno scherzo della natura nella Genesi e poi erano offerti dai figli i doni della terra altra cosa insomma già che ci sei come è andato che Abele uomo fatto magari anche grande e grosso si sia lasciato uccidere da Caino che era una scimmia più piccola secondo quel sacerdote Abele non era grande e grosso perché aveva solo poco più di due anni quando il fattaccio successe la prima famiglia umana costituita da Adamo dalla nostra Eva che nel frattempo era cresciuta e che già era incinta di sette dalla scimmia umanoide Caino e dal piccolo Abele stava pranzando sembrava un quadretto di serie una vita familiare agreste arrivati alla frutta proprio alla frutta il piccolo Abele prende una mela che per freddo calcolo della scimmia Caino era di quelle raccolte per terra e portate a pranzo in dono a suo padre Adamo la morde si accorge che Marcia la butta ne prende una seconda e trova Marcia pure quella ma anziché buttarla questa volta la tira in testa Caino e poi scappa via Caino si infuria lo insegue lo raggiunge e fuori dalla vista di Adamo e Eva lo uccide sodomizzandolo basta ma questa è una storia proprio degna di un film horror mi rifiuto di pensare che visioni e spiegazioni del genere vengano da Dio capisco perché quel sacerdote facesse gli esorcismi eh sì rimaneva scioccato anche lui perché le scene le vedeva addirittura in visione e quindi molto più realistiche mi dispiace ah quindi il primo pedofilo della storia sarebbe stato dunque Caino non solo fraticida ma anche pedofilo senti mi sembrerebbe che nell'opera di quel sacerdote ci sia molta fantasia a dir poco senti il resto della storia non lo voglio più ascoltare non mi interessa più conoscerla anche se adesso mi hai fatto passare del tutto il sonno non lo vuoi più ascoltare fai male perché il resto è addirittura peggio perché il sacerdote spiega sempre sulla base delle sue rivelazioni che tutti gli uomini attuali sono dei bastardi lo dici perché sei una femminista no anche se lo so che uomini sire dei bastardi queste insomma sono notazioni ironiche di questo dialogo ma quelli attuali sarebbero dei bastardi in senso genetico letterale perché non sarebbero uomini della razza pura di Adamo ma degli animali frutto di incroci ibridi insomma sono dei bastardi che in certo qual rievoluti ecco perché queste teorie piacciono agli evoluzionisti allora gli uomini attuali sarebbero infatti tutti i discendenti di Caino la cui razza bestialmente ibridata non si capisce bene se prima con scimmio con ominidi o prima con ominidi e poi con uomini discendenti dalla razza pura di Seth avrebbe gradatamente preso il sopravvento su quella umana che finì per estinguersi assorbita da quella ibrida geneticamente più forte e fai male a non ascoltare il resto perché pur se è frutto magari di una mente troppo fantasiosa come gli dicevano comisticamente il suo vescovo e i suoi confratelli ai quali Don Guido Bortoluzzi aveva prospettato per prudenza solo alcune delle sue visioni non le più scabrose questa genesi biblica viene oggi molto promozionata e divulgata asserendo che questa storia degli uomini attuali ibridi troverebbe un riscontro perfino nell'opera di Maria Valtorta come ti aveva accennato all'inizio Maria Valtorta ma ti rendi conto e non la difendi tu la tua Valtorta tu che sulla sua opera ci hai scritto sopra 23 libri di commento dedicando al suo studio gli ultimi vent'anni della sua vita questo è l'autore di cui stiamo parlando beh te l'ho già detto non puoi mica fare la guerra contro tutti quelli che sono su internet no lascia che pensino e scrivano quello che vogliono tanto lo ripeto se uno minimo di buon senso capisce da solo ah si la metti così e allora ti servo io alcuni per avvalorare le cose dicono che anche tu avresti confermato in un tuo libro quanto sarebbe stato detto dalla Valtorta condividendo il fatto che noi uomini e donne attuali saremo tutti ibridi discendenti di scimmie io ma guarda che chi lo dice oltre a non saper leggere si sarebbe avuto il cervello però se toccano la Valtorta poi toccano anche me e la cosa comincia a riguardarmi veramente da vicino ora mi documento mi leggo questa Genesi e poi poi ti dirò mi interessa anche perché la Valtorta si difende già da sé lei è in cielo e c'è chi la difende ma io se non mi difendo io chi mi difende in terra senti qui credo proprio che tu dovresti scrivere un libro tu io tu io sempre tu cioè io no un libro io io no ci vogliono un sacco di mesi te l'ho detto che se ne sto già scrivendo uno proprio uno e poi hanno già scritti troppe alla mia età 74 anni va a finire che rimane un'opera che i posti richiameranno incompiuta allora potresti organizzare un convegno Valtortiano eccetera eccetera poi nel seguito del testo c'è tutta quanta un ulteriore insomma approfondimento a vario titolo ma la cosa importante è la sezione dove si cominciano a evidenziare le differenze sostanziali che esistono tra l'opera della Valtorta e gli scritti di Don Guido e evidentemente anche la Sacra Scrittura alcune le avremo già intuite allora dopo quella telefonata notturna salto qui al capitolo Genesi Bibbica e Peccato Originale pagina 55 dopo quella telefonata notturna raccontata nell'attefatto avevamo cominciato a prendere conoscenza nelle grandi linee della Genesi Bibbica di Don Guido Bortoluzzi come pure delle ragioni che mi avevano indotto ad organizzare questo dibattito per ristabilire la verità o comunque difendere l'opera di Maria Valtorta dal pericolo di letture di persone e interpretazioni di persone che potessero anche involontariamente indurre altri in errore parlo di difesa dell'opera Valtortiana perché nella suddetta Genesi Bibbica per un lettore non troppo informato o non del tutto attento sembrerebbe quasi che venga fatta risalire ad un dettato del Gesù Valtortiano la successiva tesi dell'opera di Don Guido Bortoluzzi in merito di un'attuale umanità composto da uomini non più geneticamente identici al capostipide Adamo umanità costituita cioè oggi da esseri ibridi vale a dire noi che saremmo discendenti da un incrocio antidiluviano fra i primi uomini di razza geneticamente pura ed animali antropoidi vale a dire scimmie antropomorfe gorille orango se non ominiti primitivi per quanto concerne la popolazione antidiluviana il fatto di un'originale presenza di ibridi sulla faccia della terra viene in effetti confermato dal caposesto della Genesi qui ricordiamo la scorsa puntata in cui ne abbiamo parlato d'accordo i figli dei giganti che si uniscono con le i figli di Dio che si uniscono con i figli dell'uomo e da cui nascono questi misteriosi giganti dei primordi Genesi 6 1 4 e seguenti ho interpretato la luce delle spiegazioni del Gesù Valtortiano egli nella sua rivelazione alla mistica attenzione si guarda però bene dall'attribuire la responsabilità dell'incrocio e conseguente ibridazione della discendenza ad un primario rapporto bestiale di Adamo con una scimmia o con un più o meno simile animale antropomorfo ma come vedremo la lascia interamente sulle spalle del solo Caino fratricida non pentito depravato totalmente posseduto da Satana e maledetto da Dio allora che cosa hanno fatto non so se Don Guido gli interpreti io non sono un esperto di questo allora sulla base di quella lettura ecco perché era così importante vederla di quella spiegazione data da Gesù sull'ibridazione di parte del genere umano non di tutto il genere umano ma dei discendenti di Caino e delle sue unioni bestiali dice ah ma questo ha detto la stessa cosa perché ha detto che praticamente il genere umano deriva da un ibrido primordiale quindi da questo rapporto primordiale di Adamo con la scimmiona che ha inficiato il genere umano non solo dice questo ma dice anche che la linea di Caino ha poi preso il sopravvento sulla linea di Seth in maniera irreversibile e che quindi gli stessi discendenti di Noè sarebbero stati ibridizzati e quindi il genere umano è ibrido tutto ma negli scritti di Maria Altotta non si dice così si è ibridato il ramo discendente da Caino e il diluvio universale è stato proprio giustificato dall'impedire quello che sarebbe potuto succedere cioè l'ibridazione integrale del genere umano se no che senza via prendere Noè e i suoi figli e metterli dentro l'arca scusate proprio per preservare la linea umana pura per quanto ferita e comunque inficiata dal peccato originale Caino lo si comprende dalla spiegazione di Gesù non era affatto una scimmia che pensava e parlava come un uomo ma era un uomo vero e proprio altra differenza del tutto simile a noi cioè lui Caino geneticamente pura tutti gli effetti secondo il letterario di Gesù Valtortiano che viene citato nell'opera del Bortoluzzi ma anche secondo altri brani dell'opera della Valtorta i discendenti geneticamente puri di Adamo lungo la linea di suo figlio Seth il terzo figlio per intenderci Adamo ed Eva ad un certo punto della storia finirono per incrociarsi e sottolineo ancora una volta questo concetto con la razza già ibrida dei discendenti di Caino dando origine pare di comprendere ad ulteriori ibridi di secondo livello più simili all'essere umano probabilmente detto come ad esempio ci prefiguriamo un uomo di Neandertal nei nostri disegni si creò dunque dopo qualche tempo una situazione si comprende sempre dalla spiegazione del Gesù Valtortiano in cui la popolazione prediluviana si trova ad essere composta così discendenti geneticamente puri di Seth figlio di Adamo iniziali discendenti ibridi della promiscuità sessuale dell'uomo Caino con esseri scimmieschi antropomorfi 3 una ulteriore specie di discendenti ibridi frutto di incroci tra i discendenti di razza pura di Seth e discendenti ibridi scimmieschi di Caino quelle famose unioni tra i figli di Dio e i figli degli uomini 4 da discendenti di razza pura di Seth non ancora ibridati ma che tuttavia in un mondo si fatto si erano in gran parte moralmente corrotti fu questa situazione che spinse Dio a decretare lo stermino di tutti mandando un radicale diluvio dove gli unici sopravvissuti dell'arca Noè sua moglie suoi tre figli e mogli avrebbero dovuto dare origine ad una nuova umanità geneticamente pura e moralmente migliore della precedente l'opera val-tortiana sempre secondo quanto sostenuto nell'opera di Don Guido avrebbe precorso le rivelazioni che sarebbero state fatte successivamente da Dio a Don Guido stesso rivelazioni queste ultime che sempre secondo quanto affermato nell'opera del sacerdote completavano e integravano le rivelazioni che Gesù aveva fatto in precedenza alla mistica più in particolare sempre secondo le rivelazioni dall'opera di Don Guido due punti uno un peccato originale compiuto solamente da Adamo è costituito dall'atto sessuale in sé per sé con una scimmia allora questo fatto per quanto mi riguarda è una delle cose in assoluto più inaccettabili non è proprio possibile cioè non è possibile perché allora immaginiamo che questo fosse vero ma ci rendiamo conto di come cade completamente tutta la mariologia come cade completamente tutta quanto una serie di discorsi fatti fin dall'epoca patristica della dinamica della redenzione cioè la redenzione comincia dalla donna che cade e che si che si porta dietro la caduta all'uomo che causa quindi la corruzione del genere romano in quanto capostipide e la redenzione invece parte dal nuovo Adamo che è il figlio di Dio fatto uomo che però associa alla sua opera la nuova Eva perché in due avevano rovinato il genere umano e in due dovevano redimerlo con l'altra differenza perché le opere di Dio sono tutte davanti al contrario di quella di Satana che mentre nel peccato originale l'opera preponderante ce l'ha avuto la donna e l'uomo gli è andato dietro nell'opera della redenzione l'opera preponderante la redenzione l'ha fatta il nuovo Adamo il nostro Signore Gesù Cristo con un'opera secondaria e subordinata ma comunque necessaria della nuova Eva se questi scritti fossero veri il dogma della corredenzione amici cari si va completamente a far benedire perché come ho detto cento miliardi di volte la corredenzione si basa rigorosamente sulla coppia antitetica Adamo Eva Nuova Adamo Nuova Eva sostenuta fin da ed antichissima il primo grande nome della patristica che ne ha proprio sviluppato questo tema è Sant'Ireneo ma così Eva non c'entra niente Eva la scimmiona che cosa vuoi che abbia fatto poi non è stata colpa sua è stato Adamo che è andato a a violentare la scimmiona e la ragazzina non c'entra proprio niente quella un essere umano innocente che stava lì tranquilla che poi a un certo punto ha fatto un figlio normalissimo che si deve fare così non c'è nessun problema non ha fatto niente cioè né Eva scimmiona né Eva bambina non hanno fatto niente non hanno fatto ma questo è inaccettabile questo qui cioè per quanto mi riguarda io non ce la proprio faccio a accettarlo possono parlare pure in nostro godo e se un giorno qualcuno mi immagino insomma se la chiesa dovessi dire queste cose qui sono vere certo che mi sottometterei ma con una difficoltà enorme perché cioè mi sembra una cosa completamente inaccettabile mi sembra poi se queste erano veramente rivelazioni da parte di Dio i suoi misteri sono infiniti bisogna sempre lasciare uno spiraglio di possibilità aperta ma io veramente trasecolo per come percepisco queste cose non è finito due un figlio Caino che lungi dall'essere un umano geneticamente puro era già un ibrido e quindi mezzo uomo e mezzo scimmia con l'aspetto fisico di scimmia ma capace di pensare comprendere e parlare come un uomo una Eva che non era il nome dell'Eva di cui si parla nella genesi della Bibbia l'Eva cioè che Dio aveva creato e posto accanto ad Adamo per essergli fedele compagna di vita moglie e madre dei suoi futuri figli ma che era in realtà la scimmia antropomorfa di cui al punto 1 precedente scimmia che avrebbe dato alla luce in un primo tempo lo stesso Adamo quindi Caino in seguito al rapporto sessuale da lei e da Adamo oltre alla bambina che con gli anni sarebbe divenuta l'Eva di cui parla la Bibbia infine infine un'umanità divenuta con il tempo completamente ibrida con un patrimonio genetico snaturato rispetto a quello del primo uomo in quanto i geni scimmieschi degli ibridi avrebbero finito per prendere il sopravvento Allora concludo con questa notazione dell'autore che condivido credo a questo punto almeno per chi è un credente che si deve partire dalla considerazione che Dio è verità eterna che quindi non si smentisce mai lo Spirito Santo quando è presente ad esempio nelle ritorazioni private può illuminare e far comprendere meglio le verità rivelate come del resto aveva detto lo stesso Gesù nel Vangelo verrà lo Spirito e vi guiderà la verità tutta intera ma non modifica nella sostanza la parola di Dio nel caso specifico le verità fondamentali della Bibbia ed in subordine le rivelazioni private dell'opera valtortiana vengono completamente stravolte l'opera di Don Guido non chiarisce né tanto meno completa come invece viene detto le rivelazioni che erano state fatte in precedenza alla mistica valtorta ma distorce dalle fondamenta sia le rivelazioni della valtorta sia soprattutto la rivelazioni della Bibbia al punto da mettere in discussione come avremo occasione di vedere meglio in seguito lo vedremo nella prossima volta la dottrina stessa del peccato originale la missione del verbo divino che si sarebbe incarnato nel corso della storia in Gesù e più in generale l'intera dottrina cristiana io amici miei vi dico già da adesso e condivido questa posizione conclude il paragrafo dicendo questi scritti gli scritti di Don Guido si trovano in situazione di totale estraneità sia rispetto alle verità della genesi della Bibbia sia rispetto all'opera valtortiana la quale ultima invece e io lo condivido concorda invece perfettamente con la verità della Bibbia sulla quale fornisce delucidazioni ma che non la smentiscono anzi la rafforzano io sfido chiunque uno può anche non crederci alle cose che dice Maria Valtorta ma sfido chiunque a dire che esse contraddicono il dato biblico della Genesi assolutamente chiunque pensa questo qui lo deve argomentare non lo può dire a casaccio perché non è vero tu puoi anche non crederci che la dinamica del peccato originale sia stato quello ma è perfettamente in linea con quello che è descritto nella Genesi sotto tutti i punti di vista la prossima volta ci vorrà sicuramente un'altra puntata seconda ed ultima perché non vorrei perderci troppo troppo tempo completeremo questa disamina e la segnalazione più ancora nel dettaglio esaustiva degli elementi di divergenza tra queste tre fonti diciamo così che era prima quella autorevole per Antonomasi che era Bibbia le rivelazioni di Maria Valtorta e le presunte rivelazioni di Don Guido Bortoruzzi nella Genesi Biblica Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga e alla prossima